Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Sono le tre, vengo da te, tu esci di me Benvenuta alla nuova puntata, abbiamo ospite il... Possiamo dire, allora, non sei nel rap, nel trap, ma stai studiando, stai cercando di capire in fondo che tipo di musica vuoi fare Ci abbiamo Nibbo, un cantautore, a fine comunque è sempre cantautore A questo punto la domanda più spontanea nasce Chi è Nibbo? E soprattutto come descriveresti Nibbo oggi? A chi ti ascolta? Allora, bella domanda Nibbo oggi come lo descrivo? Lo descrivo come una persona, un cantante che vuole, tramite la sua musica, riuscire a connettersi con gli altri Magari riuscire a mandare anche un messaggio di forza Perché nel senso, inizialmente la mia musica è nata perché mi ha fortemente aiutato a liberarmi E anche come una sorta di terapia mi ha aiutato a... In passato avevo molte ansie, molte paure e sono... cioè grazie alla musica sono riuscito a superarle tutte queste Quindi se posso dire una cosa è magari mandare forza a chi mi ascolta O semplicemente anche se non è un testo introspettivo come di solito facevo ed è un testo più leggero Mandare delle belle emozioni a chi mi ascolta A questo punto parla Renato dell'ultimo singolo Luna Ma è un sogno di andare sulla Luna oppure ti vuoi candidare per... nell'equip che dovrà partire per la Luna? Bella, bella Questa non me l'avevano ancora detta No Allora, Luna parla... nel senso è tutta una metafora Parla di una storia d'amore E parla del fatto che molto spesso il vero amore, quello puro, quello che veramente è vero Sembra qualcosa di irraggiungibile come la Luna, sembra qualcosa di distante E Luna parla del fatto che questo amore è possibile raggiungerlo Noi molto spesso... cioè nel senso c'è chi non ci crede Però questo è un testo, una canzone che spinge a credere in questo vero amore Quell'amore che ti illumina Cioè nel senso magari come nell'oscurità della notte ti dà quella luce come la Luna Oppure ti smuove come la Luna che smuove il livello del mare Per questo l'ho chiamato Luna Per questa cosa qui Poi per il fatto che la Luna è bianca E nel mio testo dico anche Tu ti chiami Luna, sei come la neve E richiama appunto alla purezza Alla purezza dell'amore Parla di un viaggio in giro per il mondo Che significa essere curiosi Viaggiare, conoscere noi stessi, conoscere l'amore Ci sono tante metafore all'interno del testo Però questo è il messaggio principale Abbiamo visto la copertina del singolo Dove in realtà tu sei nella macchina Però non ti vedi ma ti vedi riflesso Perché quella immagine poi riflessa in realtà? Non precisa dove ci sei tu Ma ci sei il tuo riflesso in questa immagine Allora, bella domanda Cioè nel senso È stata fatta casualmente Quando abbiamo girato un video E abbiamo fatto delle foto E quindi in realtà non è che ci sia Dietro un grandissimo significato È semplicemente una bella prospettiva È un'immagine che mi piaceva È il fatto che comunque sia Vedi riflessa all'interno dello specchietto Questa luna è te stesso Quindi in realtà ci sono varie interpretazioni Ma non ce n'è una fissa Per cui ho utilizzato quell'immagine lì Beh, la realizzazione dei testi In questo caso nascono prima le parole Nasce prima un beat, un riff Un qualcosa che Oppure a volte nascono insieme Nel caso tuo? Allora, nel mio caso Io adoro scrivere con una melodia Nel senso Magari ho già in mente Ciò di cui andrò a scrivere Però mi piace Cioè mi ispira molto il suono Quindi generalmente parto da una melodia Con in testa un'idea di cosa andare a scrivere E poi mi lascio guidare dall'intuito Abbiamo visto che poi in realtà Questo non è il primo singolo Ma già c'è presente anche un EP Poi nel futuro forse ci saranno altre EP Curiosità L'EP che hai fatto È in formato ancora soltanto in digitale Oppure è anche in formato visivo? Digitale Quello che ho fatto L'EP che ho fatto Appunto ne ho fatti in realtà Ne ho fatti due Inizialmente sono uscito con Tumulto Che era un EP E poi sono uscito con DNA Che appunto Però rispondendo alla tua domanda Digitale Sì E invece come sei cresciuto artisticamente Dall'uno all'altro disco Ma soprattutto fino a raggiungere questo disco Come sei cambiato anche artisticamente? Se sei cambiato Allora Artisticamente Diciamo che Sicuramente inizialmente Ero molto su Magari Uno stile molto più rap Quindi Crescendo Artisticamente Ho iniziato a utilizzare più melodie Anche parti cantate A Diciamo A conoscermi di più A sperimentare tanto E quindi sicuramente Come anche hai accennato prima Mi piace Mischiare un po' di cose Mischiare un po' di stili Mi sto scoprendo tanto Sto scoprendo Tante cose E a breve uscirò con altri singoli Quindi Verrà fuori quello che sto scoprendo E invece È suonato dal vivo Sicuramente Qual è l'emozione Di salire sul palco E davanti Inizialmente c'è un pubblico Che è silenzioso Poi Comunque vada Ricepisce Ciò che prendi E loro ti rimendono Quell'energia Perché si emozionano Comunque partecipano Nel tuo live E ti rimandano Quell'energia Tu In fondo Anche se sei concentrato La senti Quell'energia Quale sensazione provi In quel caso? No è una sensazione Molto Molto forte Perché Alla fine Come ti ho detto All'inizio Ciò che mi preme È quello di Connettermi Alle persone E di mandare Dei messaggi Quindi Certo Nel senso Quando vai in studio Registri Sono tutte cose bellissime Che adoro Nel processo Però sicuramente Quando sei in live Quando sei davanti alle persone Senti proprio Questa energia La percepisci È un È un qualcosa di forte E C'è proprio connessione Poi dipende dai live Ci sono live In cui c'è più connessione Live in cui ce n'è meno Come è giusto che sia Però È tanta roba Tanta roba Invece Quando scendi al palco Quando incontri le persone Che ti pongono Delle domande Oppure Oltre che farti complimenti Ti chiedono il selfie Oppure il piccolo fotografo Oppure Ti fanno domande particolari Che in fondo Ti fanno riferimento Alla tua canzone Dicendo Guarda Mi hai capito Ho avuto quella sensazione Di aver vissuto quella cosa Ti è capitato O speri che ti possa capitare Ogni tanto mi è capitato Spero mi capiterà di più Però sì Mi è capitato Ed è bellissimo Perché questa è la potenza Della musica Tuna Raccontando la tua storia Raccontando il tuo punto di vista Puoi far rivedere Tutte le persone Che ti ascoltano In questa prospettiva Poi magari Loro l'hanno vissuta In maniera diversa Magari recepiscono Anche la tua storia In maniera diversa Ma riescono A immergersi In quello che dici Quindi È bellissimo Secondo me Questa cosa qua Ma qualche artista In cui Ti sei un po' ispirato Comunque Involentemente Hai fatto tu A quella cosa Che poi ti ha fatto anche crescere E ti fa crescere artisticamente Ma allora Sinceramente No Non è che ci sia un artista Da cui ho preso Per carità Io ascolto tantissima musica Però Se ti devo dire Uno Da cui Mi sono ispirato O Ho richiamato certe cose No Non mi viene in mente nessuno E invece Quando è che ti nasce l'idea Di fare Questo genere in musica E non altro genere Comunque Melodico Il rock Di genere In fondo La musica È un po' Tutta Tutti i generi Ma in realtà Allora Sarà che Io ascolto molto Sin da piccolo Ho ascoltato molto rap E Mi piace anche la trap Poi mi piace anche il pop E tutto Però Diciamo che Quando mi sono iniziato Ad approcciare Alla scrittura E alla musica È venuto istintivamente Partire con questa chiave qui Quindi non è che una cosa Che ho pensato Inizialmente Magari anche Giocando Ho provato E Capivo che era mia Quindi è per questo Che ho iniziato Facendo questo Giocando Facendo questo Giocando musica È più facile Scrivere testi Molto lunghi Con tante parole Oppure come nell'inglese Che si dice musicalmente Dove la La parola Più sintetica Un po' Più stretta Un po' Un po' Più ricercata Un pochettino Elaborata Ma allora Inizialmente Nei miei primi testi Scrivevo tanto E magari c'erano anche pezzi Senza ritornelli Nel senso Era Era più Una specie di freestyle Non che io Facessi in freestyle Però aveva più Una stesura A modo freestyle In cui Dicevo tante cose Ma per il semplice fatto Che avevo tanto Cioè che mi sentivo Di dover Buttare tanto fuori Adesso Magari scelgo Più le parole Faccio dei testi Anche magari Un po' più sintetici Come ti ho detto prima Anche Dei richiami melodici Però dipende Cioè non è che c'è È tutto A sentimento È tutta sensazione Senti la melodia Senti quello che viene fuori E Magari una volta Ti viene da scrivere Moltissimo Da riempire tutto E da usare Meno parti melodiche Ed altre Di meno Cioè è una cosa Che va molto a sentimento Questa cosa Per me A questo punto Progetti futuri Abbiamo detto Oltre alla produzione singole Si parlerà Di portare Il disco Cioè le canzoni Dal vivo Assolutamente E c'è questo In mente Di fare Di connettermi Con tante persone Di cercare di fare Più live possibili Poi sto scrivendo tanto Sto scrivendo tanto E E quindi Ho in programma Di fare uscire Tanti altri singoli Quindi Ci saranno sicuramente Novità A questo punto Noi ti ringraziamo Per essere stato L'ospite Oltre ai saluti finali Ci ricordi tutti i tuoi indirizzi Per poterti raggiungere Per poterti ascoltare Assolutamente Innanzitutto ti ringrazio Ringrazio chi ci ascolta È stato un piacere Per quanto riguarda Trovarmi Su Instagram Mi si trova Con Nibo Flame Che è F L A M E Che sarebbe Fiamma in inglese Nibo Flame Tutto attaccato Per quanto riguarda Le mie canzoni Si possono trovare Su Spotify O su YouTube E basta scrivere Nibo E magari tipo Cercando Luna Basta scrivere Nibo Nibo Spazio Luna E questo è tutto Studio 7 TV E Sport Picciano Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata Sono le tre Vengo da te Tu esci L'intervista di Pietro L'intervista di Pietro L'intervista di Pietro